Dopo due sconfitte finalmente è arrivata la vittoria, una vittoria pesante contro una diretta concorrente. Sì, 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 una vittoria molto pesante perché comunque anche se ora la classifica non va guardata, insomma lì si trattava di distanze, quindi sono punti che valgono tanto. Poi si veniva da due settimane brutte, anche se l'ultima rispetto alla prestazione eravamo contenti, magari ovviamente meno per risultato, però oggi sono stati bravi, la squadra ha fatto una partita tosta, loro è una squadra organizzata che gioca bene, quindi ragazzi giovani hanno entusiasmo, per cui bene, bene, fate complimenti alla squadra perché è importante. Adesso ci godiamo questi tre punti, poi da martedì si inizierà a preparare la trasferta di Gozzano, che sulla carta è una partita complicata. Assolutamente, ora ci festeggia, insomma, si è molto contenti per la domenica perché le vittorie vanno sempre festeggiate, stasera ce la godiamo un po', stasera è domani, ma da martedì siamo sempre sul pezzo, perché comunque sono tutte partite che hanno un livello di difficoltà molto alto, ovviamente il Gozzano è una squadra anche a livello di classifica, insomma, è un organico importante, per cui ogni settimana bisogna essere bravi a ricaricarci e a tirar fuori il meglio della settimana dopo, questa qui ormai è già passata.